La Teca potrebbe rappresentare in effetti un punto di svolta per la marca Seat, un modello che ci permette di entrare nel segmento di maggior successo e crescita del mercato europeo. Siamo convinti che diventerà la terza colonna della marca Seat con Ibiza e con Leon e le prime indicazioni che ci sembrano molto positive, 8 milioni di visite sul sito web, 400.000 configurazioni, erano numeri che non ho mai visto in Seat, questo ci rende molto molto ottimista rispetto al successo commerciale del prodotto. Grazie a tutti!